Ah, ah l'hai visto il video di campagna? E' buon anno? No, l'ha pregato per fondetti, io ho fatto il fondagnolo. Non l'hai visto quello che hai fatto ieri, ne che aprieto. Ah, mi ha già fatto la mia mamma. No, la mamma non le poverete. No, la mamma non le poverete. No, la mamma non le poverete. Si vuole un po' che non le poverete. Gabriele, non viene qua, non abbiamo il telefono della nonna, della donna. Così già il telefono del conto tuo. Hai capito? Ti do il telefono della nonna, quello che vuole, è un uomo. Va bene, eh? Ok, hai Sam. Ok, hai Sam. Ciao. Grazie a tutti.